Siamo nella dimora, che ha grandi suggestioni, suggestioni piccole, suggestioni che coniugano assieme l'ambiente esterno con le passioni di Francesco Paolo Antoni. Quali sono le passioni di Francesco Paolo Antoni? Ma intanto la passione, naturalmente quella è ovvio, è banale, è ascoltato, la passione più grande rappresenta quello che faccio, il mestiere che faccio, fare l'attore naturalmente è la mia passione. Non basta solamente la passione, questo lo voglio sottolineare, perché è una mia passione, però sono riuscito a farlo anche attraverso delle piccole qualità che poi ho scoperto avere, perché solo la passione, io lo dico sempre, non basta per fare questo un mestiere difficile, un mestiere complicato, un mestiere duro, per cui bisogna anche saperlo fare in qualche modo. Quindi questa è la mia principale passione. Poi che altro ti posso dire? La mia passione è stare a casa a guardare le bellissime serie televisive americane. Io adoro, sono un cultore della sitcom americana, della serie americana e del cinema americano in genere, per cui del cinema in genere, amo molto andare a cinema. Una passione in particolare che Savera pure si può notare è quella di prendere il sole sul mio terrazzo leggendo un buon libro. Savera, l'altro approfitto anche della mia attuale disoccupazione per prendere il sole quotidianamente, perché la lenza di sole ci sta sempre a Napoli, grazie a Dio, viviamo in una città dove almeno il sole ci accompagna, almeno quello. Ecco Francesco, in questo momento la campagna è attraversata anche da notizie piuttosto inquietanti con questa terra dei fuochi. E Napoli ancora una volta è martoriata da atti scelerati. Il tuo impegno, la tua arguzia, la tua capacità di far riflettere con il sorriso tanti telespettatori, e tanti fan che ti seguono, e tanti napoletani e non tante persone che ti stimano e ti seguono nelle cose che fai. Come si concilia in te, con la tua sensibilità, questo vivere a Napoli con questa lenza di sole, ma anche con queste notizie che inquietano un po'? Ma io penso che si coniuga come si coniuga con tutti gli altri. Vivere a Napoli è questo, vivere a Napoli significa vivere contraddizioni continue, stati d'animo continuamente contraddittori, perché è una città meravigliosa, ma allo stesso tempo è una città terrificante, una città difficilissima, una città che mi sa difficilmente recuperabile in periodi relativamente brevi. Insomma ci vorrebbero anni e anni di generazioni buone per risolvere dei problemi. Insomma qua i problemi ci sono ovunque, viviamo in un paese veramente terribile, è un momento terrificante, brutto, 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 degrado totale, assoluto, sociale, politico, culturale, artistico, veramente insomma una cosa indegna, indecorosa, vergognosa. E questa città in particolare amplifica sempre tutto. E quindi qui ci sono delle cose terrificanti, tipo quella che hai citato della Terra dei Fuochi, che è una cosa veramente ignobile, che rappresenta veramente la, ma non dico la superficialità delle persone, proprio la cattiveria della gente che è pronta a passare sui cadaveri delle persone pur di guadagnare qualche lira in più, è una cosa veramente terribile. Io non posso fare molto, posso stare vicino e posso, tra virgolette, risvegliare la coscienza civile attraverso delle riflessioni più o meno divertenti, dette con leggerezza, perché con la leggerezza si arriva alle persone con una immediatezza maggiore. Però purtroppo io più di questo non posso fare, molti altri come me più di questo non possono fare. Io vorrei fare tanto di più, ma non si può, non si può, non sono io né quelli come me. A volte ci chiedono aiuto, ci dicono stateci vicino, ma noi vi stiamo vicini, ma sta vicino a noi, ma le istituzioni, la politica. Per cui insomma è un discorso un po' ostico. Io mi vivo queste cose veramente con grande sofferenza, insomma, al di là del suolo, mare, però effettivamente sono cose che fanno stare abbastanza turbato. Ecco, non a caso il grande pubblico conosce la tua sensibilità artistica. Tu hai proposto delle cose in questi anni sempre con uno stile che è il tuo stile, che è uno stile che non è volgare, che non vuole andare sui luoghi comuni, che non tratteggia quelle negatività, ma sempre con originalità. Non sono convenevoli, ma effettivamente in te il grande pubblico ha sempre visto questo, ti segue e ti ha seguito per queste caratteristiche. Oggi la satira, anche la satira colorata a tinte partenopee, spesso scade in volgarità, in luoghi in eccessi. Io non voglio totalmente metterti in difficoltà andando a fare un'analisi critica di quelli che sono oggi e i timbri della satira. Tu non temi nessuno e con franchezza dici il tuo pensiero. Che cosa ti sembra oggi? Tu non è che mi metti in difficoltà. Tu sotto certi aspetti mi inviti, come si dice, a pane e puparolo, perché bisognerebbe, insomma, avrei tante cose da dire. Non le posso dire perché poi diventa anche antipatico. Però effettivamente la comicità che vige in questi periodi, che ha più successo in questi periodi, rappresenta, è lo specchio della società, rappresenta tutto quello che noi stiamo vivendo. E' vero che in tempi di crisi la gente ha ancora più bisogno di ridere. E' un dato, è un dato di fatto. Cioè quando c'è crisi la gente ha voglia di evasione. Ed è sempre successo così. In questo momento, di questa crisi, oltre che economica, è anche culturale, è anche artistica. Quindi trattasi veramente di degrado assoluto. In questo momento sembra che la gente, come se avesse bisogno, di un tipo di comicità degradante e degradata. Si è perso, a mio avviso, è il proprio, il concetto di un'arte di qualità, di una comicità più di qualità, di una comicità più leggera, di una comicità più pulita. Si è persa la percezione della qualità. Per cui fa bene chi si adegua a questo momento. Io sto cercando di lavorarci, sto cercando di scrivere una cosa che sia più vicina a questo tipo di situazione. E' difficile, no? Sì, immagino. E' complicato, però insomma cercherò di riuscirci, perché bisogna adattarsi ai tempi. E' così ed è inutile combatterli, bisogna adeguarsi. Il grande pubblico che ci vedrà anche oltre il 26 di ottobre, cioè su Via Etere, in tutti i canali dove sarà trasmessa questa conversazione nostra, l'anteprima di un premio tributato a Francesco Paolo Antoni, è nelle corde di quello che Francesco ha fatto in questi anni a Napoli, quindi nella sua originalità, nella sua intelligente satira che ha proposto. E non è un modo di dire, ma lo stesso testimonia, questo significato del premio è testimonianato anche dal fatto che all'Augusteo Francesco Paolo Antoni dal 28 di novembre non va, non porta sul palco l'ultimo arrivato, porta sul palco il signore che si chiama Edoardo De Filippos, scusate se è poco, come si potrebbe dire, insomma. E' impegnativo portare un lavoro... E' un orgoglio, è un orgoglio enorme, è una grande gratificazione. Io ho già portato in scena Edoardo con Uomo e Galantuomo, per cui ho avuto già il piacere enorme, la soddisfazione enorme di recitare Edoardo, di essere Edoardo in quel momento. Mi sono divertito da morire perché la commedia è un orologio straordinario e mi sono divertito anche perché avendo ormai un mio carattere attoriale mi sono divertito a cucirmelo addosso, per cui ho fatto Paolo Antoni e ho fatto Edoardo. Quindi inevitabilmente ci ho messo anche di mio, inevitabilmente ci ho messo delle cosettine mie che si sono fuse meravigliosamente con quelle di Edoardo, essendo io cresciuto a Pan Edoardo, per cui ce l'ho veramente dentro. Quindi per me è veramente una gioia infinita recitare Edoardo, cosa che farò adesso. Ho fatto Miseria e Nobiltà, un'altra cosa meravigliosa, perché recitare un lavoro che è stato recitato da Totò è un'altra cosa veramente che... Ecco, sono queste le soddisfazioni poi in fondo di questo mestiere. Ecco, e in effetti sono queste anche le motivazioni del premio perché chi ti ha visto in teatro e poi ti ha visto in televisione ha attributato a te la stessa bravura in due aspetti differenti e tutti e due impegnativi. E questo secondo me è proprio quello che dovrebbe essere un attore. È proprio quello, il divertimento di essere un attore. E attenzione che queste cose... Non è che sto facendo, para che sto facendo. Uno che vuole fare la... Insomma, che vuole dire delle cose da insegnante, per carità di Dio, sono solamente mie. Cioè, queste cose vanno fatte tutte e vanno fatte tutte in maniera diversa. Perché è divertente proprio quello. Le cifre sono completamente diverse. Quella del teatro, quella della televisione e quella del cinema. Sono tre cifre artistiche, recitative, completamente diverse. E il divertimento per un attore è proprio quello di di entrare dentro ognuna di queste cifre e riuscire a farle proprie. Quello è il divertimento più grande per un attore. Io proprio... Infatti non mi sono mai sognato di fare a cinema quello che facevo in televisione o viceversa. mi piace molto andare fino in fondo alla lettura sia quella del cinema, che quello del teatro, quella della televisione. Altrimenti fai sempre la stessa cosa. Assolutamente sì. Questo si vede e si vede a tal punto che stasera ricevi il premio Due nuvole nel cielo. Quindi grazie a Francesco Paolo Antoni. Noi lo seguiremo con entusiasmo, con l'entusiasmo e l'attenzione che merita la sua arte e attendiamo tante cose da Francesco Paolo Antoni ancora. Speriamo, mi tengono le dà. Ormai insomma capite, non è che posso... Quando ne posso capire, insomma... Certo, insomma speriamo di poterle dare. Ma questa intervista andrà in onda tutta quanta? No, 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 faremo ancora. Sennò la gente non ce la fa... Vabbè, ok, d'accordo. Allora grazie per il premio e spero di essere lì. Ciao.